Yu-Gi-Oh! Tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con il nuovo episodio del podcard. Ragazzi, finalmente abbiamo di nuovo Francesco dopo una settimana di pausa che non era informissima ed è tornato diciamo con un argomento top perché diciamo oggi parleremo ovviamente delle solite uscite e in più diciamo se vocifra la possibilità che esca una nuova meccanica visto che è stato annunciato un pack chiamato duellist nexus ma che ovviamente recupererai in che senso no che lo comprerai si diciamo per vedere se c'è le carte nuove belline ma di questo andremo a parlare dopo detto questo prima di tutto vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da magic corner quindi se vi serve il prodotto sigillato carte singole trovate il link del loro store qua sotto in descrizione in più se volete liberarvi di carte singole di yugi magic pokemon one piece e digimon forse will e digimon perché come abbiamo detto settimana scorsa michelle le vuole qua sotto in descrizione trovate instagram detto questo cosa quale annuncio a tutti quelli che stanno ascoltando se vi siete rotti le scatole delle marchette di cappe lasciate tutti insieme un bel non mi piace io sono il primo fa sempre un'interazione detto questo io andrei subito a vedere il premium pack che uscirà nel 2003 in giappone perché hanno annunciato un'alternative art di una carta su cui molta gente si è già segato segata abbiamo l'alternative art di rai non è l'artwork più sexy di questo mondo però gli si vede un pezzetto di coscia quindi già sappiamo cosa succederà mi dispiace ragazzi ma la fanbase di sky striker è così non ci si può fare niente è la più grande fanbase di sega ioli che esiste a questo mondo poi stavo per dire c'è ancora gente che lo gioca e invece ieri ho visto la lista con sky striker spade di bambù sì tanto la konami poi continuerà a fare alternative art perché questo è solo l'input di tutto quello che succederà più avanti insieme poi a nuovi supporti finché la gente dirà no che bello una ragazzina bionda con gli occhi verdi che poi è uguale alla maga nera ma dettagli la konami continuerà a spinge è matematico è però lei assolutamente c'è qualcosa forse i capelli più chiari il fatto che sembra innocente fino dei pervertiti yugio una madonna ma più caldo yugio stessa che sta continuando a fa uscire fuori solo mazzi di waifu cioè allora ormai se non c'è una waifu non si gioca un mazzo guarda mich te lo dico qua allora come a francesco gli ho regalato abc anche a te t'ho fatto il regalo di natale ma dai ti faccio scegliere ma dai puoi scegliere tra tutto quello che c'ho dei spirit beast che l'ho già messo da parte o tutta la base live twin tranne live twin tutta la vita quindi live twin tutta la vita a posto confermato aspetta spirit beast ritual beast ritual beast si è difficile la scelta è mazzo filz carino ritual beast però live twin c'è tutto manca solo il link i link che hanno reprintato e ovviamente mi è arrivato anche il deck box da kri ma dai sì io ho dovuto dare un deck box in cambio e mi ha detto di dire che il regalo anche da parte sua cucciolo va bene sono contento dai allora ti aspetto che mi devi portare la deck list di tribri bella deck list quella quando esce spac inizia a comprare ma va bene allora oltre a questo visto che alla konami gli piacciono i waifu ha deciso di realizzare pure questa le statuine con le charmer non lo so se non è carta stampata non la voglio e lo so però dai è bellina non è a colore gli hanno colorato solo gli occhi per risparmiare visto che colore costa però sono belline dai questo dovrebbe essere dark quello davanti quello con gli occhi rossi no è una donna è quella del fuoco è perché gli hanno fatto il seno troppo piccolo non è da occidentali da da volo di da orientali questo podcast sta partendo malissimo ma gli hanno fatto il seno abbastanza grosso sì domani lettera da konami denuncina per aver detto che è pieno i pervertiti questo gioco ma dettagli le charmer hanno 12 anni cap sappilo ok andiamo oltre guarda che rai non ne ha più di 15 o 16 non vorrei dire direi di chiudere la parentesi cos'altro c'è di buono di buono visto che abbiamo portato la deck list di drago armato la konami la spara grossa bello l'ho visto il supporto il drago armato questo si può fare con destiny fusion si può fare con destiny fusion si fa con neos fusion tanto neos fusion dice che può fondere può essere utilizzata per fondere una una fusione che nel nome ha neos o tipo le robe dell'arcobaleno insomma ah ok a posto allora ragazzi nuova lista era una bomba cioè no sarà una bomba esso esagerato però prima mono entrap passavi anche veiler potevi passare adesso se peschi neos fusion puoi fare una board anche tre draghi sotto una negazione se ne fanno due già forse un drago lo riesce a fare e comunque per essere drago armato è cioè niente non è complimenti alla konami che ha deciso di fondere due carte per fare qualcosa filz però con un qualcosa di funzionale intorno salvando un mazzo che era da cestino come warrock si esatto no warrock no ma per me è peggio cyber drago è peggio drago armato cioè lui adesso diciamo che è forte ma non lo è perché come quick effect lo puoi tributare e specialare un'altra neos fusion ignorando le condizioni di evocazione quindi poi fa che ne so neos dell'arcobaleno o adesso non mi viene che altre fusioni neos aspetta aspetta però non neos dice proprio elemental hero ah elemental hero ancora meglio cioè poi lanciato pure a zeta si eh una bella carta no secondo me come artwork hanno ripreso neos dell'arcobaleno e hanno messo qualcosa le ali del drago armato le ali si 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 e basta carini vabbè carini quindi carta approvata grande konami allora passiamo oltre a qualcosa tutti altri supporti per altri mazzi però vabbè 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 piano piano esce tu tranquillo non ti preoccupare allora poi hanno annunciato questi che io non l'ho ancora visto non li ho ancora visti eh io ho visto carino molto eh io ho visto che doveva essere tipo il nuovo meta in giappone è quello che ho sentito pure io però l'inizio li finisce Mitch te ne sai di più allora a livello di meta non lo so ho visto di quello che fanno ma ho visto un paio di video quelli lì che fanno mettere insieme tipo un sacco di partite e ho visto che li facevano contro il meta nostro TGG attualmente e spaccavano tutto ma la meccanica come funziona? la meccanica è particolare un sacco però non voglio esprimermi ancora non faccio figuracce diciamo che su questo archetipo parleremo la prossima volta e ci informeremo un tantino di più perché diciamo che oggi l'idea era di puntare sui Satellar io del Starchetipo non mi rendo conto perché non ho visto nulla però già il fatto che sia Warrior e che tu ci possa giocare tutti i vari supporti che la Konami ha fatto uscire i guerrieri boh già la dice lunga su quello che può essere no no che poi dovrebbe essere già uscita una carta che se non sbaglio era uscita in o in no no in Bode o in Difo o in che carta? no era in Difo eh il nome della carta non me la ricordo ma era sto cazzo di guerriero tutto blu sto cazzo non mi ricordo comunque sono belline le carte dai è incredibile questo allora vedi sto guerriero tutto luminoso ecco tu è uguale la carta senza questa luce gialla è lui eh non me lo ricordo vabbè tanto di questo di questo archetipo andremo a parlare la prossima volta così se la Konami non fa uscire niente di nuovo ritiriamo fuori la roba vecchia esatto invece la roba carina che volevo andare a vedere oggi è la roba Teller Knight a questo punto io mi chiedo probabilmente la no Tolemaius il livello 4 che è stato sbannato era un input per questo non c'entra niente il fatto che la carta faccia schifo attualmente ma è perché dovevano far uscire i supporti e fondamentalmente devono far vendere li devono vendere chi è che sta soffiando sul microfono? io scusate stavo leggendo la carta capisco che anzi mi spesso però non è questo il momento è proprio un bel archetipo vorrei la vorrei la base mazzo prima o poi che poi nel senso anche per l'evocazione è abbastanza generico almeno questo sono due livelli 4 infatti la colana mi ha rotto il cazzo a fare ste robe ci poteva scrivere due Costellar due Teller Knight vabbè però almeno non c'è limitazioni nel mazzo nel senso se lo vuoi ibridare con qualcosa andiamo a vedere però gli effetti nel senso l'obiettivo era quello se no 5 minuti e chiudiamo il podcast allora praticamente l'effetto di questa carta dice che puoi attivare entrambi gli effetti se questa carta è evocata ex his puoi targettare un Teller una carta Teller e o una carta Costellar nel tuo cimitero e aggiungerla alla mano inoltre puoi bannare un Teller o Costellar dalla tua mano o deck e staccare un materiale da questa carta l'effetto penso di questa carta diventa l'effetto del mostro bannato come se il mostro venisse evocato quindi tu puoi attivare a carino puoi attivare l'effetto di Deneb o di Altair fondamentalmente perché Altair se non sbaglio era quello che evocava da cimitero e Deneb sarciava sì 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 molto molto carino in più sarebbe da rivedere anche gli effetti dei dei Teller Knight invece degli ex his perché pure quelli c'era qualcuno veramente forte no aspetta Teller dovrebbe essere tipo Deneb e Teller e Satella i Costellar sono quelli che uscivano d'arsenale cioè una carta che può essere ibridata con entrambi i mazzi sì cioè qui ci so però tipo questi sono i Teller Knight e in Satella ho chiuso la pagina quindi a posto non li potremo vedere ok ecco perché allora l'hanno fatto generico tanto a prescindere tu non puoi metterlo i mazzi che stanno fuori perché tanto gli effetti sono cioè sono solamente per quei due archetipi è solo per poterlo giocare in entrambi sì poi c'era Alzano mi ricordo che faceva quel coro no non so che carta diceva questo è proprio pazzesco sì sì gli hanno fatto ecco vedete qua gli avranno fatto almeno una quarta secondo me dipende dal disegnatore se è più verso le Loli o più quelle o Pai eh sì poi abbiamo Teller Knight Lira il primo se un qualsiasi altro Teller o Costeller viene evocato lo puoi specialare dalla mano ah ok e se viene evocata ti puoi aggiungere una spell dal deck alla mano vabbè un qualsiasi mostro forte d'archetipo sì questo che è molto carino anche perché il problema tanto dei Costeller era quello che è lentissimo intanto era un metà veramente diverso era un control che è veramente lentissimo quando andavi in full combo ti facevi la normal che specialava quell'altro i Xyz e chiudevi lì nel senso a parte che sento 4 Satella faceva Deneb 7.5 quindi qua qualcuno non è d'accordo con questo mazzo vero Francesco visto che hai criticato Eldlitch i mazzi 7.5 non meritano di esistere la Konami ci è abituato a un formato troppo veloce ok adesso torniamo indietro no non posso pensare che io devo incontrare dei mazzi del merda tipo Eldlitch e allora che cazzo ci fai con Lightning Storm scusa non le vorrei giocare te tocca te tocca c'hai quelli c'hai Spolverino c'hai Cosmic Cyclone c'hai Twin Twister ma che cazzo vuoi c'hai tutti i target tutte le carte che ti pare per poter spaccare non le voglio giocare non le voglio giocare e allora vaffanculo esplodi cioè ah poi dici così e sei il primo che gioca a Mina ma sta zitto sta zitto e non te la metti aia Mina è un'altra roba sì Mina Necrovalle è un'altra roba non è setto cinque passo c'è ma Mina passo è un'altra storia Mina è come un setto dieci attualmente non lo so che è un po' più particolare come discorso perché secondo me c'aveva ragione un po' entrambi nel senso che adesso è molto più divertente il gioco è molto più divertente e anche più difficile è molto più difficile anche perché comunque sia devi averci su quasi tutti i mazzi abbastanza skill per giocarli perché alla fine le combo sono abbastanza complicate devi saper giocare incontro a un sacco di negate la Konami ha detto io ti faccio uscire lo structure di Trap Tricks perché siete degli mongoloidi e vi piace fare setto cinque esatto e quindi la Konami adesso è giusto secondo me pure per arrivare alla fine del discorso che adesso tenta di rallentare un pochino di più il gioco ci ha provato con Mina sì ma non lo puoi rallentare facendo usci più setto cinque passo no ma almeno non per forza devi giocare a Como puoi giocare a quello che cavolo ti pare almeno il meta non è standardizzato su un unico mazzo che fa full combo di settantadue ore e stai lì che piangi perché hai utilizzato già quattro Entrap e non l'hai bloccato no ma infatti più che altro perché io preferisco mille volte giocare contro un mazzo come fa setto cinque passo piuttosto contro un mazzo che mi scomba per tre ore e mi chiude con dieci negate in campo io c'ho cinque parti in mano e non gioco io preferisco un mazzo combo visto che di me giocarlo tutta roba contro dico perché c'ho sempre tutta roba per andare contro i combo nel dubbio quindi c'è anche anche in post side c'è metti Nibiru metti sì Dark Ruler però non lo so a me per me è che sono andati troppo in un meta che c'è tutte negate sì solo neghini almeno non arriva al punto di giocare ogni partita con Savage da quattro in campo a Pollusa e un Entrap in mano Savage da quattro è tosto da fare lo devi fare con Sariuja sì vabbè è un esempio arrivano a Savage da quattro comunque in merito alle Entrap mi è capitato tempo addietro ero in live su Twitch stavo su Master 2 stavo a fare una partita arriva un tipo se follow mi dice se tiri Max C mi defollow io dico perché le Entrap sono carte del cazzo mi dico sì però come fai a giocare se no eh no ma sono carte del cazzo e ho tirato Max C e ho defollowato va bene è vero però cioè le Entrap sono carte del cazzo ma è solo colpa della Konami cioè nel senso l'ha dovuta stampare perché ha creato carte troppo generiche e chi andava primo era troppo forte allora a me piace no aspetta adesso si lamenta con le Entrap quando ha detto perché il meta si è velocizzato e adesso che è veloce dici eh no i 7.5 no no ma infatti le Entrap cioè le Entrap ci posso ci posso fottere va bene a me me dà fastidio che vedo che l'avversario io sto tutto lì carico con le Entrap vedi 7.1 7.2 7.3 prego basta e usi veiler come tuner è l'ultima cosa che puoi fare dai andiamo a vedere cos'altro c'è perché non sono gli unici questi abbiamo particolar palesemente Altair e Francesco devi smetterla di ansimare sul microfono ok abbiamo capito che sia un'astinenza però questo bello questo cosa fa allora vabbè puoi attivare entrambi gli effetti da un costellar se questa carta è evocata puoi targettare carta in terreno per il numero di lucioscolità exis che controlli e distruggi le porca troia forte forte questo è un pochino più generico non vorrei dire però se un tell se un tellar e un sateller che allora se un tellar o oltre che si si o o o è special samonato nel terreno puoi specialare questa carta al cimitero quindi se ne evochi un altro ti entra special comunque quindi bello che non ha la limitazione dello stesso nome e also you cannot però non puoi dichiarare l'attacco per il resto del turno con eccetto mostri exis ok una limitazione che non è una limitazione come ben sappiamo con ami grazie per questa linea che non è una limitazione che poi la cosa positiva è che non è che lo usi una volta e viene bannato tu il turno dopo puoi riutilizzarlo si si l'unica cosa è che boh dice limitazione solo mostri exis vabbè vuol dire che non potrai attaccare con i link però wow t'ha fatto gli exis forti è un mazzo che funziona solo di exis poco male poco male ma diciamo che a questo giro la Konami si è abbastanza impegnata per fare supporti decenti si si ma sono contento ma perché la gente vuole supporti mutant sono leggi commenti è giusto però no perché capito io vorrei supporti fluffal vorrei supporti dragon maid vorrei allora basta questi supporti dragon maid ti hanno dato l'alternative art di governante hai detto che è quella che te voli scopare basta c'hai capito la Konami però citi i supporti pureri i supporti pureri che cazzo è non so come non so in italiano com'è ma perché mazzo pureri aspetta ti compro il nome ma perché mazzo è aspetta adesso ti dico no il mazzo si chiama purreli purli è capito cioè perché l'ha stampato sarà un mazzo meme fai uscire supporti per i mazzi meme non fa altri mazzi meme che non supporterai ah ho capito è tipo quei quella sorta di no fluffal melfi si amici no dei supporti dovrebbero essere usciti dovrebbero aver annunciato anche qualcosa ecco non si vede assolutamente niente sono bellini però secondo me è troppo troppo rivelto poteva far uscire un supporto forte per fluffal per esempio ti hanno dato parata? ti hanno dato parata l'anno scorso? a posto l'unico supporto forte che considero è chimera da buck a posto non puoi lamentarti hai tutto quello che ti serve tutto proprio tu allora ti andrà bene il supporto quando lo renderà meta e tu dirai ah finalmente questo è il supporto che vogliamo no 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 io già ce l'ho in mente la roba che voglio vorrei una negazione su fluffal che non lo deve rendere per forza meta sarebbe l'unica negazione che ha quindi andrebbe bene oppure una fusione che puoi fondere due in filo o due fluffal perché se no è limitante che deve essere 1 e 1 dai ti hanno pure reprintato patchwork ma che cosa vuoi di più ce l'hai pure forza ma io già ce l'avevo ma che cazzo guarda quando ho visto che stava tipo a 15 euro ti avrei detto guarda capisco che ti piace fluffal però no non l'avrei mai vendute le mie da duppo erano vabbè anche adesso ci sono ultra se no potresti vendere chimera a questo punto no la ristampa no non c'ho voglia non c'ho voglia non c'ho voglia me la tengo ormai più lo sbatti di vendere e ricomprarla vabbè dai andiamo all'ultimo supporto credo sì ecco poi anche ti ha dei supporto di prima visto che siete molto bravi con l'inglese fate voi puoi attivare solo una di questa carta per turno e c'ha vabbè due effetti uno quando il video risolve puoi evocare specialmente un teller o un costellar da mano o cimitero forte ah è continua ah aspetta e allora ah no ok puoi attivare una sola carta con questo nome per turno e poi dice puoi utilizzare il secondo effetto solo una volta per turno quindi se attivate entrambi una volta per turno non so se il secondo dice che puoi targettare un teller o un costellar exis che controlli evoca specialmente scusa un attimo se tu ne giochi due cioè se te ne attivi una turno uno al turno dopo ne attivi in altra puoi utilizzare di entrambe il primo effetto perché solo il secondo effetto è hard once per turno non ho capito la carta dice che puoi usare solo il secondo effetto una volta per turno del nome di questa carta una volta per turno questo significa che anche se ne gioco tre lo posso utilizzare solo una volta per turno però aspetta c'è scritto quando questa carta risolve quindi io penso che quando questa carta è attivata ah ok si è vero quando risolve niente non avevo letto sta roba niente stronzata prego scusate nel secondo puoi targettarti un teller o un costellar exis che controlli evoca specialmente dall'extra deck ostia un teller o un costellar di un rank differente utilizzandolo come materiale è forte è un armor praticamente con questa evochi così a buffo o diamond a caso che non te fa millare tier sta lì e succhia malissimo no è da testa assolutamente eh sì è fortissimo mi sa che questo sarà il mio prossimo mazzo anche perché non dice più alto di uno o più basso di uno dice solo di un rank differente quindi puoi aggiungere il cazzo che ti pare essenzialmente poi fa anche il m7 per dire a caso visto che anche costellar sì fortissimo abbiamo finito i supporti allora cosa ne pensate per me sarà sconvolgente sembra figo sulla carta ma non sarà no non è meta però secondo me sarà un bel rogue ma voglia secondo me sì anche perché comunque scusa ti parlavo sopra no forse anche qualcosina di più dico ah ok sarà super meta però sarà l'exo sister di turno esatto stavo per dirlo qualcosa farà secondo me sarà exo considerando poi che il mazzo di base parte già con delle carte buone visto che è un mazzo che all'epoca con bian e cross se la giocava bene tanto c'è alfa che è il neglino che è serciabile poi deneb e c'è altair l'unica cosa secondo me è che la carta che abbiamo visto prima sercia solo magia se avesse serciato anche trappola un altro sercino per alfa mi sembra si chiami alfa sì alfa satelar nova sarebbe stato grosso molto adesso ma carino ma le mazzetti carini anche l'hai visti il mazzo nuovo sempre arcadico che esce quello di Mikanko che roba è fa tipo l'ho provato quello addirittura l'ho provato me lo sono montato su edupro però è lentissimo però c'è una meccanica che è troppo carina essenzialmente tutti i mostri non possono essere distrutti in battaglia hanno un zero d'attacco e tutto il danno lo fanno all'oppo ok ho capito è letteralmente quelli lì i signori del tempo come si chiamavano sì i signori del tempo si chiamavano time lord time lord è letteralmente l'effetto dei time lord zero d'attacco carinissimi però tutto quanto l'archetipo si basa su questo e praticamente ognuna quando viene evocata si equipaggia una magia e qui ognuna fa le peggio cose usa i rituali c'è solo uno adesso ma io questo è il mio prossimo mazzo dai carinissimo le pretty cure proprio si le ragazzini quali vecchi da gatto è finita è finita il mio prossimo mazzo è deciso gli artwork sono bellissimi perfetto ho già deciso nessun problema è lento come niente non importa l'importante è giocarci sopra 3 dark ruler no more 3 3 3 3 ma guarda che bella cioè la rossa la rossa no però no la ma voi mettete la blu no no la blu la gialla aspetta guarda la gialla figa però non c'è c'è la carta aspetta è proprio la carta base pazzesco fra quindi cosa vuoi montare questo si siamo d'accordo le mio mio le compro tutte tanto ogni tanto la konami deve mettere quel quel brazzo wifo turba perché leggo nekroz e non voglio giocare reparto brutto come nekroz one card combo tanto che ci siamo ma no dai no che schifo che schifo vediamo cosa riesci a fare ma ma te l'ho detto non ti aspetta niente di che tutto ciò non ci sono ancora le carte nuove eccola tirato fuori apposto finito sono abbastanza deluso si te l'ho detto e niente quindi mitch qual è la tua prefe questa anche la blu la blu la blu che se non sbaglio è anche forte dovrebbe essere quella che fa una sorta di ringhino siamo d'accordo ragazzi chi preferisce la gialla verrà assolutamente bannato dal canale se scegli la rossa va bene va bene comunque aspetta c'è un'altra gialla non capisco perché non la fanno vedere un mostro normale ne manca una forse era verde aspetta allora già gli hanno fatto il png per quanto è bello furi de orb si chiama come si micanko uribe orb micanko furi de orb dalle verde no furi staccato de più t h e staccato orb no non mi dice niente no a me piace non ansimare con le ragazzine dai su a me piace no gli arco sono ci sta ci sta è il mio tipo no non lei nello specifico quella blu potrebbe essere il mio tipo grazie a dio la mia fidanzata non guarda questo video quindi detto questo ma quindi domanda più scomoda del che cosa si farà a capodanno max c esce o no ancora non si sa staremo a vedere comunque tutti stanno dicendo anche diegub lo sta dicendo quindi io lo prenderei come una cosa sodata e secondo lui max c guarda max c esce anche per me esce siamo pronti allora comunque non vorrei dire mich diegub ci ha fregato un video la tier list dei prodotti l'ha fattoci pure lui così impari a editarli prima è quello che ti meriti capita ragazzi vi voglio raccontare sta cosa c'era settimana scorsa stavo così chiacchierando con altri content creator che non ho conosciuti altri questi si chiama shogunate tgc ah li conosco cioè non di persona però ho visto un video ogni tanto il giorno prima parlavo con luca gaming tonight di fare una tier list insieme e si era deciso di fare una tier list piedini carte femminili di yugi io mi dissocio il giorno dopo parlando con lui mi scrisse guarda stavo registrando un video e scusa se non ti ho risposto gli scrissi quale ha detto no qualcosa di tranquillo tier list piedini anime di yugi e dà porca contento è bruciato ti devi spicciare che grande perdita per i tuoi follower guarda tu dove dove avresti messo rafflesia è una domanda importante io mi dissocio tu 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 allora detto questo andiamo avanti perché veramente qua potrebbe finire veramente male allora vorrei fare un disclaimer un secondo poi si passa a un paio di cose che ho trovato sul market sempre di satella ragazzi se vi sta piacendo questo video visto che siete degli infami e non vi iscrivete considerando che il 70% di voi non è iscritto iscrivetevi commentate e lasciate un like e c'è twitch in descrizione ma vabbè quello è opzionale non troppo poi non mi piace nel caso gli hanno stancato le marchette beh le marchette c'è sempre non importa possono anche riempire questo dislike non me ne frega niente andate tutti a fanculo comunque detto questo andiamo a vedere quello che ho trovato sul market perché ovviamente sono usciti i supporti quindi non vogliamo lucrare su i satella o i costellar mi sembra una cosa giusta e vera da fare infatti io mi sono accorto di questo perché magic corner resta di cazzo ecco mi avevano messo un Deneb nel carrello che stava a 4 euro adesso Deneb da duea primo playset sta a 18 euro ce ne è rimasti pochi sul market e stanno tendenti ai 10 attualmente diciamo 9 a caso c'è il castello di Stromberg ne ho uno a me ne manca uno visto che c'erano due apposto usate il disclaimer pubblicitario per un video che uscirà particolare ma ce l'hai sicuro no ce l'ho sicuro non so dove ma ce l'ho no lo so perché l'ho visto e non l'ho venduto ok stavo dicendo mentre per quanto riguarda alfa la situazione è un po' differente non è ancora salita non so se si giocherà però diciamo i primi playset li vai a pagare sui 5 euro in sé a 70 con una carta che non si è giocata da tipo 10 anni a sta parte mentre dei cost no eh sì dei costellar attualmente roba che costa c'è solo lui che ultra costa più dell'oro anche lui stessa cosa e il resto non si è salito tantissimo sì stavano a 2 euro grazie a dio non me l'hanno comprati e me li sono tenuti per me attualmente qualcosa è salito qualcosa no se ve lo volete montare io recupererei subito i deneb no adesso non ho soldi lo voglio montare io mica te ma soprattutto non così alla cieca voi non sono waifu quindi no grazie diciamo io no no se vuoi montare waifu e essere denunciato domani se te vede la mamma di qualcuna in giro allora andiamo adesso all'argomento quello vero quello importante ovvero la possibilità che possa uscire una nuova meccanica nell'arco nel corso dell'anno prossimo di quello dopo in quanto eccolo e temi nuovi di zecca sì l'inizio di una nuova serie e qua crolla tutto allora parto da un presupposto secondo me non siamo pronti o sì boh non lo so ci arriveremo dopo allora praticamente diciamo la possibilità che possa uscire una nuova meccanica è condizionata dal nome dell'espansione in quanto si chiama Duellist Nexus praticamente tutti i set con Duellist nel nome hanno sempre portato una ventata d'aria fresca al gioco tipo c'è stato Duellist Genesis che è il set hanno portato anche ventate d'aria de merda però me la sento buona per il nome pure io e c'è stato Duellist Genesis che era TDGS il set dove sono entrati carte come il polvere l'arcidemone cioè tutti i primi sincro ovviamente prima c'è stato con Gaia e le altre merda poi Duellist Alliance invece è il set dove sono usciti i link se non sbaglio voi li cavolate non mi ricordo qual era il set Duellist Alliance sì no Duellist Alliance è il set che ha fatto entrare nel gioco i pendoli ah i pendoli giusto quindi Duellist non me lo ricordo me ne ero preparati due ma c'è sempre questo Duellist no vabbè nel senso è un caso che questi due si chiamano Duellist oppure tutti quanti avevano Duellist Duellist ce l'hanno solo i set che hanno aperto il gioco a una nuova era ok figo figata io c'ho paura però tantissimo anch'io sono preso bene da una parte dall'altra no più che altro perché anche non è l'unica novità in realtà sono preso bene più che altro bisogna capire in che senso è l'unica novità perché almeno in Giappone ci sarà anche una nuova rarità al posto delle Prisma quindi non so se leveranno anche da noi le Prisma spero e le sostituiranno con qualcosa di figo tipo di nuovo e poi diciamo che tutto questo è fatto per il 25esimo anniversario quindi altra cosa che secondo me conferma la nuova meccanica per festeggiare 25 anni di Yu-Gi-Oh non so un po' chi ci potrebbe stare veramente la nuova meccanica è da capire un po' no più che altro è che sì pure per me nel passato nel tempo quando ormai ci sono i Link considerando che la Master Rule 5 è stata bellissima perché ha tolto le limitazioni del merda dei Link però vuol dire che siamo praticamente nella stessa Master Rule da un botto quindi siamo pronti per il cambiamento spero ma guarda quello che mi preoccupa è che possano fare una meccanica che sia vicina a quella dei Link nel senso è una meccanica che condiziona tutte le meccaniche cioè i Link obbligavano per forza a giocare special dall'extra solo in una zona o nel caso c'erano altri Link che sbloccavano le zone sottostanti speriamo che facciano tipo le trappole pendolo che sono sia trappole che magie o sia trappole che mostri almeno è una meccanica che o diremo nessuno giocherà però almeno c'è qualcosa di nuovo no allora secondo me ci sta una meccanica come lo è stato gli Xisi i Syncro o i Pendoli che non ha condizionato il resto perché secondo me se esce una meccanica nuova non può essere di nuovo per l'extra deck e invece secondo me a meno che non ce lo aumentano gli slot allora aumentano gli slot c'è il caso che allora aumenta gli slot allora gli slot diventa un gioco cancerogenissimo è 20 tipo già 20 carte ed è extra letteralmente puoi giocare tutto tutto sì no ma sono d'accordo io al 100% non è che vorrei questo però le giare non sarebbero più limitanti cioè giocare tipo l'extravagance o la prosperity dici vabbè gioco il mondo cazzo viene sono d'accordo non lo so allora se non fanno qualcosa che condiziona l'extra deve essere qualcosa alla pendolo però cosa può essere ma aspetta ma non è che no sai cosa c'ho paura non è che fanno qualcosa del tipo come sta o su magic oppure anche su come si chiama quel formato di yugi che si gioca a 20 no tipo che c'hai una carta che tipo su speed duel che c'hai il giocatore come si chiama la skill card no secondo me dubito perché è una meccanica che hanno che usano in due links non so se due links era un test per vedere se la gente l'avesse apprezzata o meno come il contrario per me hanno fatto due links e ho detto ma fammolo cartaceo e ce lo chiamo eh no perché a quel punto non avrebbe senso continuare a giocare a due links se prendi la stessa meccanica giusto secondo me è carina come idea ci può stare potrebbe essere qualcosa del genere insomma magari una carta che non entra direttamente nel terreno cioè non è che è come un mostro una magia o una trappola che tu la giochi e la puoi utilizzare ma una carta che ti piazza in una zona extra magari te la devi pescare per attivarla e dà dei vantaggi e basta allora quando è stato ufficializzato GOT che ricordiamo si chiama time wizard ok è uscita anche una meccanica che di tornei non se ne sono mai fatti da come so che praticamente sfruttava una carta che tu ce l'avevi come mostro che condizionava qualcosa ah il tipo il commander the magic bravo e che potevi farla scendere in campo è una tu avevi il tuo c'hai il tuo campione come su one piece il tuo capitano e è tipo solo lui che fai attacchi e giochi tutto in attorno al tuo capitano e ovviamente se viene spaccato tu ovviamente vai a perdere il duello però puoi scegliere se farla scendere in campo o meno come cosa ci sta perché è una meccanica ripresa da una serie del primo anime quindi anche per festeggiare i 25 anni ma che dici? si che roba che serie? praticamente quando c'è la serie della città di duelli che stanno sul dirigibile c'è all'interno quella serie basata sul fratellastro di Kaiba e praticamente c'era questa meccanica qui ah non mi ricordavo strano carino manco io cioè è una cosa che ci potrebbe stare proprio per festeggiare i 25 anni invece fanno proprio per festeggiare fanno i matti in culo fanno tipo il torneo dei duelli di Kaiba che se perdi devi dare le tue carte più rare a quell'altro se parla di 500 euro a botta però ok se no a me basterebbe che facessero l'accademia del duellante davvero la carta? ah ok un'accademia vera sarebbe fighissimo più che altro o se no l'altra opzione è fare un altro archetipo di extra le carte rosse che se ne si è vociferato una vita e non si sono mai state fatte anche i link li poteranno fare sarebbe bella la carta rossa che cazzo di senso ha che l'hanno fatti i blu sono d'accordo oppure forse rosse dà fastidio a leggerci proviamo a spararla ancora più grossa una meccanica incredibile perché i link non ci saremmo mai arrivati allora in che senso i link non ci saremmo ma qualcosa che magari gioca può unire più meccaniche un mostro di extra che ha due effetti che magari è sempre mostro e c'ha più effetti che variano in base alla zona dove sta tipo tu puoi metterlo o nella zona carte mostri o nella zona carte magia e trappola in base a dove lo metti cambia l'effetto e sono le esistono già tipo i pendoli Xyz si però tipo quello di proprio magari lo puoi spostare te durante il il gioco e in più resta sempre mostro anche quello di magia e trappola è sempre un mostro che ne so magari te previene da attaccare i danni diretti e no tipo delle carte che per evocarle sono tipo un mix tra i synchro e gli Xyz vabbè devi utilizzare sempre due carte e però ad esempio le condizioni è un mostro e una magia oppure un mostro e una trappola oppure due trappole per poterle evocare non lo so mi sembra una caffonata però potrebbe essere figo anche perché trasportano a giocare più carte magia e trappola lo rallenterebbe forse forse un po' il gioco cioè potrebbe stare una roba del genere una roba strana potrebbero banalmente fare una nuova tipologia dei mostro tipo c'erano i mostri che non hanno mai approfondito i gemelli potrebbero fare banalmente una tipologia dei mostri una meccanica che sfrutta la vecchia meccanica dei gemelli no no semplicemente dico che anziché scriverci mostro effetto o mostro effetto tuner o mostro effetto flip o mostro effetto spirit c'è scritto mostro effetto zia sterina che boh avrà delle peculiarità così non stravolgi il gioco e crei una cosa nuova però oppure se no una carta di extra che fa come gli spirit che in end torna nell'extra esiste già i neos fammi finire che vai entra a caso tu puoi tirarla a buffo ovviamente torna nell'extra in end e non può essere utilizzata per synchro exis fusioni o cazzi e mazzi cioè sono carte a sé hanno il loro effetto entrano a caso sì sarebbe tipo gli spirit con le limitazioni però ho capito questo qui mi dà l'impressione che non serve una meccanica nuova per farli magari potrebbe benissimo giocarseli come esatto l'effetto di un archetipo però una meccanica nuova è proprio qualcosa che ti cambia il gioco come stati link io perché sarebbe figo quella roba del commander quello mi piacerebbe c'è sta che però non sei obbligato a giocarla no no se non ti piace non la giochi però è una carta che scende in campo da sola sì se ci abbiamo beccato siamo uno stradamus talisissimo a meno che la konami non la inventa non guarda questo video no è che chissà chissà ti dico io per la questione nuova meccanica ho sempre detto è impossibile perché stanno puntando su Rush Duel l'anime è quello cioè non puoi fare una nuova meccanica senza anime Rush Duel perché non è uscito ancora da noi? è perché fondamentalmente da noi è una cosa invendibile considerando Speed Duel però a me piacevano le carte Rush Duel cioè un paio ne avrei comprate giusto per giusto per importiamo un gioco in un altro stato perché Francesco ne vuole un paio per tanto creare la collezione esatto poi una stronzata che vorrei ma è una roba davvero stronzata è che Yugi si adattasse allo stesso formato di Magic e Pokémon no no la grandezza delle carte cioè perché ah quello no 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 che incubo non puoi double slipare si esistono le doppie slip per i Pokémon stessa cosa devi mettere la Perfect no lascia sta vorrei che le facessero più resistenti come quelle di Pokémon solo quelle basta fare più grandi e più spesse come quelle di Pokémon ma è possibile tanto dovrebbero ristamparle tutte si follia ormai il gioco è questo e ce lo succhiamo no stavo dicendo secondo me non serviva cioè non è che non serviva la Konami aveva altre idee per il futuro del del brand e mentre qua hanno fatto un passo indietro forse hanno detto ok ormai sono passati tanti anni dobbiamo organizzare qualcosa per il 25esimo cosa c'è di meglio di una nuova meccanica che poi io vorrei capire quando sono usciti i Link per capire quanti anni sono passati che ormai non mi rendo più conto sei qual è il primo prodotto di Link dei Link no forse non sei anni un po' di meno guarda secondo me anche più di sei 2017 2017 mi pare o 2018 perché è stato l'ultimo ICS di Rimini c'erano o 2017 o 2018 è questo mi sa il primo structure deck si il primo starter ho aperto un link a caso quando è uscito non lo so però sponsor a Magic Corner così a buffo perché poi è uno starter deck quindi a posto questa roba è uscita nel 2017 ho detto si quindi questo è il sesto anno 5 anni fa ci sa quindi normalmente una ogni meccanica dura si in media 5 anni forse hanno voluto fare la master rule prima perché volevano tornare a quello che era il gioco originale perché se erano rotti il cazzo le persone di giocare solo Link sono d'accordo cioè negli ultimi due anni la Konami ha spaziato su tutte le meccaniche tutte le tipologie di carte cioè dai sincro fusioni Xiso ha fatto ridere perché ci ha pensato ha detto ok facci Link poi ha detto faccio uscire mostri Link supportando tutti gli archetipi si è resa conto che era impossibile e l'unica modo era fare sì era l'unico modo ma è stato stupido la Konami cioè la cosa positiva adesso della nuova meccanica è che essendo una nuova meccanica e se è una roba di extra come Xiso o i Link obbligherà la Konami a fare supporti per i mazzi per dargli la loro carta di extra per gli archetipo no 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 se fanno una roba così fidati che non funzionerà cioè hanno già dimostrato che se devo fare supporti per tutti muore il formato no per tutto non lo può fare ovviamente perché è impossibile allora che fai fai morire alcuni mazzi no nel senso piano piano i Link sono arrivati a tutti 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 no però che si hanno un sacco di archetipi dimenticati da Dio ho avuto supporto cioè guarda il Ritual Beast è arrivato il Link sì però io parlo di tanti altri archetipi cioè adesso mi viene in mente Fluffal Fluffal si basa solo sulle fusioni da quando cioè quando erano usciti i Link era ingiocabile dovevi fare mille scalette con le frecce e andavi a perdere tantissimo quindi se tu mi fai un nuovo archetipo che mi va a limitare le cose non posso aspettare che mi stampi la carta X per ogni allora ti dico secondo me considerando come hanno visto come è successo con i Link non lo faranno non faranno qualcosa che limita così tanto i mazzi però il fatto che esca una nuova meccanica con delle possibili carte di extra farà sì la Konami per convincere a continuare a giocare ti farà uscire la tua carta di quella meccanica per il tuo mazzo ovviamente non usciranno per tutti ma usciranno per un sacco di mazzi un po' come quando erano usciti i pendoli che all'inizio hanno fatto uscire un mazzo solo forte c'era Clifford che era praticamente l'unico mazzo metali per lì che poteva giocare i pendoli poi pian piano hanno iniziato da supporto a parecchia roba allora pendolo è un caso a parte perché a parte qualcosina che hai messo pure te all'interno di Virtual Beast praticamente i pendoli funzionano se fai un mazzo pendolo cioè ci sono pochissimi pendoli generici per determinati mazzi ma diciamo pendolo secondo la politica di Konami è stato un fallimento perché fai una meccanica nuova che dovrebbe essere ibridata in tutti i mazzi mentre non vai a creare una meccanica vai a creare una meccanica no vai a creare un archetipo con una meccanica sua cioè l'archetipo pendolo nel pratico ecco io mi piacerebbe se facessero un'altra cosa del genere perché capito a me fanno schifo i pendoli proprio non mi piace come meccanica mi dava fastidio una persona un duelante tu dieci gli piacciono tutti gli altri esatto e se io non li voglio giocare non li gioco non sono non ho qualche grosso deficit cioè se fosse stata la stessa cosa con i link ti dico basta non mi piace i link faccio già più difficoltà a trovare un mazzo che proprio non li posso giocare per niente però riesce a giocare attualmente dico riesce a giocare un mazzo che non gioca link o gioca solo Xyz o gioca solo Syncro cioè all'epoca diciamo era un altro gioco c'erano altri modi di pensare però attualmente veramente anche se esce una meccanica nuova secondo me non sei per forza obbligato a giocarla ovviamente la Konami lo spingerà con carte stroppi forti ma è stato sempre così non è niente di fantascientifico però sono sono curioso sono contento io so sia curioso che contento mi piace diciamo è figa l'idea ci vuole un po' di cambiamento adesso come adesso anche perché siamo in un periodo un po' particolare nel senso veniamo da un meta di T0 praticamente cioè da un meta lunghissimo adesso T0 è parecchio aspetta non parla di meta perché alla fine in Giappone uscirà a marzo noi ce lo vedremo probabilmente l'anno no a noi se la roba succede come è successa le volte passate no no ma non dico che sarà bene era un discorso diverso nel senso io dicevo che veniamo proprio da questo periodo particolare qui nel senso che chi gioca un minimo sul competitivo viene da un meta lungo quindi già solo il fatto che il meta è stato tanto lungo vedi più o meno sempre le stesse cose inizia un po' a noiarti capito una meccanica nuova ti può dare voglia da quando non c'erano i link a quando ci sono stati i link allora i link sono entrati pre i CS di Rimini e quindi era agosto no si era agosto forse qualche settimana prima stessa cosa i sincro quindi da noi se tutto va come deve usciranno ad agosto di quest'anno la nuova meccanica ovviamente spoilerata a marzo quando verranno annunciate le carte nuove in Giappone ma te ti ricordi come ci sono rimaste le persone quando sono passate dal poter fare vocazioni come volevano ai link guarda ogni volta che esce una meccanica nuova c'è gente scontenta e non puoi fare scontenti però i link per me hanno davvero reso più scontenti di altre meccaniche tant'è che hanno fatto retro front è l'unica meccanica che hanno detto vabbè diciamo che la gente si è incazzata quando sono usciti i pendoli e quando sono usciti ma i link non ho mai visto non ho mai sentito questo scontento generale beh cavolo se c'avevi un mazzo fusione non lo potevi utilizzare tanto ovviamente con la meccanica nuova c'è stata gente che smette e che poi si riavvicina ma tanto è così come in ogni gioco devi dare una svegliata se no si adesso rimani costante poi può essere tra due anni il gioco inizia a calare un pochino perché è sempre uguale ragazzi se a voi vi girano i coglioni perché la Konami fa la meccanica nuova levate a vedere i coglioni fate prima anche per questo per me si è coperta le spalle ufficializzando gli altri formati per me ho avuto proprio questa cosa qui nel senso adesso bene c'è il formato nuovo non è che io smetto magari vado a giocare cazzo so Edison vuoi giocare a God vuoi giocare a Edison vuoi giocare il metacancerogeno con Pepe giocare a quello che cazzo ti pare nel competitivo adesso c'è la meccanica nuova si ma non ho capito perché non l'ha fatto prima cioè che gli costava tanto le persone ci giocavano comunque gli pesava il culo cioè voi considerate che God Community Italia la community di God italiana il nome era abbastanza spiegativo ha potuto collaborare al nazionale di Yugi perché ci sono messo in mezzo io io ho contattato il referente mio il referente mio ha contattato quello che sta un pochino sopra di lui e era interessato a questa cosa perché loro ne sanno veramente di God e poi sono riuscito a farle lavorare all'interno è intercesso per loro sì perché chi meglio di loro può può gestire un evento di God in Italia attualmente i judge ok ne sanno di competitivo ma non è detto che sanno tutte le piccole cioè le piccolezze di God perché ovviamente c'è la priorità ci sono mille robe che attualmente non esistono più poi il ragazzo per cui ho fatto l'intercezione di God aveva fatto richiesta di poter fare il judge e gli era stata negata follia ma vabbè io non mi esprimo se no qua già sono messo male più nel video ne sono state sparate veramente tante grosse meglio che non mi esprimo anche se esatto si dissocio sì nel dubbio tutto quello che ho detto è fantasia non è vero sto spudoratamente mentendo la burla detto questo secondo me per oggi abbiamo finito non so se volete dire altro sulla meccanica nuova su quello che abbiamo detto adesso ma secondo me abbiamo detto tutto speriamo di poterla speriamo di poterla vedere entro breve spero gennaio febbraio devono essere annunciate e niente sarebbe figo anche se cambiano tipo come disegnato l'artwork cioè proprio come strutturata la carta sì io sogno le gold se fosse una cosa esatto una roba del genere sarebbe una gran figata ma l'avrebbero scritto magari una carta d'extra a me andrebbero bene le full art non per forza che deve essere gold però una full art secret non le full art alla pokemon che sembrano le nostre collector perché a quel punto nel senso conami tieni delle perché non ci faccio niente con questa roba beh no è diversa la rarità dal full art cioè per me full art potrebbe essere banalmente anche comune basta che sia full art c'è tutta la carta tutto artwork non lo so sta cosa non mi convince troppo perché ho visto le full art the magic che secondo me senza rarità perde un pochino però konami visto che ci hai messo dieci anni a fare un simulatore e legalizzare i i vecchi formati quanto ci metterai a capire che le full art o qualcosa di simile tipo le gold star così perché è la cosa più bella che esiste possa funzionare di yugi in yugi in più perché visto che pokemon non lo usa più un hyper dei yugi le hyper sono quelle tipo gold star cobalè no bellissima bellissima fran no fra non capisci niente allora konami perché non sfrutti il cosmolo di pokemon per favore perché è incredibile così fai secret e cosmolo e tornano le ultimate detto questo ragazzi il podcast finisce qua ringrazio come sempre francesco e michele che sono qua tutte le settimane dal mio mano anche se francesco mi ha dato buca la settimana scorsa lo ringraziamo comunque però vi portiamo vi porteremo un unboxing incredibile non so quando non so perché ma uscirà dei led il unboxing più fallimentare degli ultimi tempi abbiamo un boxettino di foton hypernova ad aprire che è stato già aperto detto questo ragazzi quindi adesso sapete che se farà la finta reaction da stupito no abbiamo trovato una carta incredibile allora no però ho scoperto che non è una prisma che carta è? è una ulti era una ultimate quella non è una ultimate? si ho visto su google dovrebbe essere una ultimate non so se è garantita in un box quindi bocce gasamo in ogni caso si va bene detto questo ragazzi state mesi e noi ci rivediamo venerdì sempre qua con un nuovo video ciao a tutti bella ah ovviamente venerdì c'è la declist di michele di exosister visto che le altre sono andate un po' una merda non mancate come sono andate una merda hai visto quante visualizzazioni c'ha la mia tune e la mia dragormata si ma sono vecchie settimana scorsa non è andato un gran che io non capisco perché ha fatto così poche views la lista della top al ICS ragazzi la lista della top del sacchetto hai un minimo di supporto hai arrivato in top 16 a remoto 2 in America hai su nessuno vuole vedere queste cose le persone vogliono vedere i deck meme e per questo ci sono io let's go quindi sbrigati a venire con qualcosa di decente meme sono pronti sono pronti ciao ragazzi bella